Allora scrittori, affrontiamo la questione sul serio. A voi non servono scorciatoie, a voi non servono regolette, a voi servono principi. Perché? Perché le regolette vi impongono di fare qualcosa. Voi le imparate a memoria, avete 12 modi di fare un dialogo, 7 tipi di personaggi, 15 tipi di storie, e avete queste regolette precise che vi dicono qui va fatto il cambio in cui il personaggio capisce che ha un problema, ma non vi danno i principi magari. Mentre invece con i principi siete liberi di capire tutto quello che accade, e nel momento in cui una regoletta per la vostra storia dà problemi, potete tramite i principi capire come adattarla, perché magari quella regoletta rappresenta l'80-90% dei casi, ma voi siete nel 10% residuale. E quindi applicando semplicemente la regoletta così com'è, non viene la vostra storia, o non potreste farla, o fallirebbe. Per esempio, tanti monomali vi davano regolette del tipo, il personaggio deve sembrare una brava persona, per esempio quelli che si preoccupano gli animali e li salvano, e deve sembrare quindi positivo in questo modo, eccetera, eccetera, e a tutti gli effetti ti dicevano che deve essere così, deve essere magari anche simpatico. Un personaggio antipatico e negativo non sarebbe stato possibile. Peccato che un sacco di storie, pensiamo ad esempio a, non lo so, a Ciro in Gomorra, quindi il primo episodio di Gomorra, non sono personaggi particolarmente simpatici, anzi, praticamente per niente, sono anche personaggi apertamente negativi. Gomorra è una serie che non è possibile scriverla seguendo tanti manuali di scrittura che ti avrebbero indicato, per esempio, di fare personaggi solo positivi e simpatici. Non è simpatico e non è positivo, ok? Mentre invece se conosci i principi, il fulcro del bene, principi che riguardano l'approccio aristotelico, per esempio paura e pietà e altre cose, puoi fare senza problemi i personaggi ovviamente simpatici, buoni, che salvano i gattini, ma puoi fare anche il residuale, gli altri personaggi, quelli che sono problematici, che tecnicamente sono anche magari antipatici, che sono apertamente degli stronzi, che sono cattivi, ok? Senza problemi. Perfetto. Quindi il discorso è un po' questo, non entriamo troppo nel dettaglio, ma la questione che voglio farvi capire è questa, che le regolette banalizzano la realtà, in quanto non la rendono più chiara, la rendono più ridotta, ma ridotta vuol dire che ne avete di meno, ok? Quindi non potrete fare veramente la realtà della storia, ma un suo sottinsieme, in più invece che farli in modo libero, perché avete compreso i principi, li potete rimaneggiare, avrete delle possibilità molto ridotte, regolette che vi confè questo, quest'altro, quest'altro, ingessanti, che possono anche scoraggiare dallo scrivere, infatti l'approccio classico, lo trovavo in tanti manuali di scrittura, che poi mi ha portato a sviluppare il mio corso base, successivi corsi avanzati, era anche che quando erano manuali che magari entravano un pochino più sul tecnico, nel dare consigli precisi, tendevano a farlo in un modo veramente, veramente a categorie, ok? Tipo, in un dialogo potesse avere un dialogo che fa queste cose, può rappresentare l'emozione del personaggio, o rappresentare dei concetti in cui crede, o rappresentare qualcosa che desidera, ora, ma porca puttana, un dialogo? Ma ti pare che dobbiamo dedicare un intero manuale? E io ho un manuale su questo tema, dove un sacco di cose riguardano semplicemente il riassumerci, che tramite le parole puoi scrivere molti concetti diversi. No, davvero? Cioè, davvero, in un dialogo non possiamo soltanto usarlo per coltivare una relazione, per esempio dicendo, Uh, carissimo, come stai? Ti vedo in forma? Ed magari una relazione che sottintende un bisogno manipolativo, perché dopo tu ti vuoi agganciare e chiedi un favore. Oppure un altro dialogo potrebbe contenere un'informazione, oh mio Dio, dialoghi usati per portare informazioni, ma in modo naturale, mentre si scambiano appunto delle battute credibili. No, è incredibile, signori, avrei bisogno, non dico di un manuale, avrei bisogno di un minimo di 15 volumi, non in una saga di manuali che mi parlano del fatto che le persone quando parlano possono esprimere diversi tipi di concetti, meraviglioso. Sto prendendo per il culo, ma un manuale famosissimo sui dialoghi, quello di Linda Sager e un altro signore, questo mi sfugge il nome, è proprio fatto con sta roba. Contiene veramente sta roba qui, signori, eh? Poi anche delle cose interessanti, per esempio all'inizio ho una citazione dove esprimo un po' il mio punto di vista del fatto che non serve un manuale sui dialoghi perché il dialogo, che è esattamente la stessa cosa del pensiero, perché pensiero e dialogo, il pensiero avviene dentro, il dialogo viene espresso fuori, vengono semplicemente dalla comprensione psicologica del personaggio. Quindi in realtà parte dicendo che quel manuale non serve e poi ti serve il resto del manuale, che in realtà non ti serve, mai l'hai comprato e qualcosa tra duco pertinentà dove vanno a mettere. Ok? Perfetto. Quindi, dicevo, dovete andare ai principi. Quindi ad esempio in questo caso non ti serve, che so, un manuale sui dialoghi, che poi giustamente, visto che i dialoghi non sono il problema, la questione della psicologia del personaggio può fare ben poco. Quello che ti serve è magari andare ai principi. Uno dice, i dialoghi come i pensieri, a questo punto uno collega, ma dialoghi e pensieri in scrittura immersiva sono la stessa cosa, cioè sono filtro del personaggio, quindi come dialogo e pensiero anche le scene derivano dal filtro. Cioè, se io so e conosco il personaggio, ne deriva che conosco come lui parla a se stesso delle cose, parla a se stesso dei concetti, delle cose e la percezione. Quindi parla a se stesso delle cose, come le visualizza, le percepisce, le annusa, le sente. Parla a se stesso dei concetti, come pensa, e parla con gli altri, dialogo. E tutto viene esclusivamente dal conoscerlo psicologico del personaggio. Non imparerai mai a fare dei dialoghi buoni senza conoscere la psicologia. Poi certo uno dice, se veramente sei un alieno che viene da Marte, tu vieni da Marte e non sai che gli umani usano la parola per esprimere cose, perché nella tua cultura non esiste, e magari a te serve sapere che si possono usare i dialoghi per esprimere, per manipolare gli altri, per comunicare qualcosa, per relazionarsi. Possono esistere dialoghi che servono a raccontare dettagli sul background del personaggio, oppure dialoghi che fanno capire le sue speranze, oppure dialoghi che fanno capire le sue paure, oppure dialoghi che vericolano le caratteristiche positive del personaggio, oppure dialoghi che ci mostrano dei dettagli dell'ambientazione parlando di cose specifiche. Signori, non sto mentendo, questo è l'indice, questo è l'indice di quel manuale, signori. Manuale con Linda Seger e John Rainey scrivere grandi dialoghi. Ah, ed è un ottimo manuale. Cioè questo manuale sta alla base sicuramente di tanti percorsi che trovate online e cose varie, c'è proprio il materiale qui dentro che si vede esattamente, e probabilmente così a occhio, per quel che ricordo, e guardando anche gli appunti che avevo messo, me lo sto rileggendo, signori, è probabilmente buono quanto, se non meglio, di dialoghi di Mackey, che c'ho sempre qui esposto. Quindi, signori, insomma, io di manuali di dialoghi, nel tempo ne ho macinati parecchi, ed anche me lo ricordavo, questo c'è dentro gli appunti. Io non ricordavo di averlo letto, per dire quanto mi aveva lasciato, zero. Mi ha lasciato una cosa, una cosa che tra l'altro è una di quelle che ripeto molto spesso, e ho ripetuto spesso nel tempo, a partire dal, credo, 2020, con i corsisti, probabilmente 2021, se non mi ricordo, la parte sul sottotesto, che un dialogo non deve essere una cosa diretta, dove si dice esattamente quello che si vuole, ma si dicono delle cose per interna e delle altre. Tant'è che, se ricordo giusto, nel corso avanzato, o forse nel corso base non ricordo, vi faccio l'esempio del Dalemiano, che era uno sketch di un gruppo comico su YouTube, non ricordo il nome, forse il terzo segreto di satira, credo, e il Dalemiano esprime proprio il concetto del sottotesto nei dialoghi, ovvero come per dire qualcosa, per avere qualcosa, per far capire qualcosa, dici qualcos'altro. Tipo il personaggio vuole andare a bersi una birretta, e non dice, ho sete, ci andiamo a bere una birretta? Dice magari, che caldo, ho la gola secca, e il suo amico risponde, birretta? E questo, eh, e questo in effetti è un consiglio incredibilmente prezioso, ma ti richiede mezza pagina, ok? Credo sia anche in dialoghi di Mechima, non sono sicuro. Ok, signori, quindi vi servono i principi, e non le regolette, che siano i dialoghi, l'escrizione, che sia qualunque o qualche cosa, che sia lo show don't tell, non vi serva la regoletta show don't tell. Se tu usi show don't tell, non capisci le cose, a te servono i principi di funzionamento, del punto di vista, del filtro del personaggio. In quel modo potrai mostrare ciò che va mostrato, potrai capire che il raccontato è implicito al mostrato, in quanto noi mostriamo quei dettagli che comunicano, cioè che raccontano qualcos'altro, e anche qui comunque, che cos'è? Sottotesto, signori, sottotesto. L'essenza della recitazione, sottotesto. Ok, signori, perfetto. E in tutta questa complessità, in tutto questo bisogno di affrontare i principi, nella loro complessità e verità, e non le regolette, nella loro semplicità falsa, che in realtà è banalizzazione, e quindi sono a tutti effetti un insegnamento fasullo, che porta all'incomprensione, all'errore, e quindi non permette mai quell'arrivo all'autentica verità della scrittura, che è permessa dei principi, allo stesso modo una persona potrebbe trovarsi di fronte all'affrontare la procrastinazione. Perché ad esempio voi potete dire, oh guarda, ho visto che fino al 12 aprile è possibile comprare Meridiano di Larve di Carlo Vitali, ottenendo questo sconto, quindi io magari invece di comprarmi Procrastinazione K2.0 con pensiero razionale mirato e tutto quanto, 48 lezioni, 8 ore di materiale, tutte queste robe qui, che mi viene però 497 euro, oh ma uso il buono, il buono che dai, e compro un incontro con te, un incontro col Duca, 250 euro, e in quell'incontro sai, mi dai trucchetti, e io risolvo la procrastinazione, no? Non è così facile. Ora, siamo chiari, io sarei anche felice di poter piazzare invece di, per ogni corso a 4,97, poter piazzare 4, 5 consulenza a 250, faccio molti più soldi, io porto via del tempo, ma tanto a me piace lavorare direttamente con gli autori, quindi lo farei volentieri. La questione però è che io lo farei anche, ma a voi non serve, e quindi vi scoraggio da chiedermi queste cose. Perché vi scoraggio? Perché è questo, cioè l'incontrino di due o tre ore in cui vi svelo i trucchetti precisi senza che dovete studiare per superare la procrastinazione è proprio quello che un procrastinatore vorrebbe, cioè io ci farei anche un sacco di soldi a proporvi che un incontro in un pomeriggio vi risolvo tutti i problemi, ma c'è un problema, sarebbe disonesto e quindi non etico, e quindi io non posso fare una cosa che lascio ad altre persone, io non posso fare, signori. La questione è che proporvi queste formulette facili non è fattibile perché non funzionerebbero, ok? Quindi tu avresti sprecato tempo e denaro, ok? Invece di avere la soluzione corretta e quindi staresti punto a capo che non hai superato la procrastinazione e perché? Perché la procrastinazione non è qualcosa che un esterno tu gli racconti cose che in buona parte sanno balle, sanno raccontare il sintomo e non raccontare il male, perché tante volte uno per quanto va davanti e magari a farti domande, la questione è che tu sei talmente distratto dal sintomo che non capisci quale è il male da affrontare e col fatto che per capire quale è il male da affrontare ti serve la conoscenza è inutile che continui a parlare con una persona o tu hai quelle conoscenze per essere per analizzare il tuo caso o l'interlocutore non può aiutarti e quindi magari ci focalizza a risolverti dei problemi di procrastinazione che in realtà non sono quelli tuoi, sono sintomi conseguenza dei veri problemi di procrastinazione. Come per esempio tu arrivi bello dritto filato convinto di procrastinare per colpa del perfezionismo e uno magari ti fa delle domande e cerca di capire e si convince che è veramente perfezionismo, in realtà il tuo perfezionismo è un sintomo ed è semplicemente un aspetto in questo caso mentalmente positivo perché essere dei perfezionisti suona buone, no? Suona una cosa figa. Mentre invece la cosa dietro, quella brutta, quella che non suona figa è che tu hai una paura fottuta del giudizio degli altri. Ora, dire a uno sai, io scrivo piano ma scrivo piano perché io sono un perfezionista, io voglio che il romanzo sia il meglio possibile, suona molto meglio che dire io ho una paura fottuta che quando pubblico il mio romanzo mi dicano che sono stupido e che è scritto male. Eppure la verità è la seconda. Ok? Camuffata la perfezionismo, quindi il problema è il giudizio degli altri e non il perfezionismo. Vi assicuro signori che le persone che hanno il perfezionismo nel senso di autentica pulsione artistica indipendente dal giudizio altrui, tu non lo stai facendo perché piaccia agli altri, lo stai facendo per l'arte, per il gusto della perfezione dell'arte, sono estremamente rare. Ok? Una volta pensavo fossero più comuni per chi ho per esempio queste ossessioni anche perfezionistiche ma non solo. E quindi giustamente con questo modo di vedere dò per scontato che fossero più comuni di quanto pensassi. In realtà poi ho scoperto che le persone affette da procrastinazione basata sul perfezionismo quando vai nel sodo sono molte meno di quelle che mi potevano sembrare all'inizio perché è un modo di raccontarsela che nasconde un disturbo completamente diverso e spesso molto più umiliante da confessare. Ok? Per cui spesso anche razionalmente si rifiuta di credere che sia quello. Ok? In sintesi trovare la tua procrastinazione che di solito sono anche più di una possono essere tre o quattro simultaneamente non è un lavoro che un altro può fare per te perché solo tu una volta che comprendi i principi puoi analizzare onestamente la tua interiorità che non è quello che tu racconti agli altri la tua interiorità contiene tutto l'iceberg perché tu quando parli a qualcuno è la punta dell'iceberg tutto quello che c'è sotto è l'iceberg vero e proprio che però contiene esattamente il problema. Ok signori? E solo se tu scopri esattamente la natura dei tuoi problemi che stanno sotto la puntarella che tu puoi comunicare agli altri puoi arrivare a capire come cambiare i tuoi pensieri e cambiare i tuoi comportamenti per modificare i tuoi pensieri e modificare i tuoi comportamenti. Quindi un'azione di trasformazione in cui riesci a cancellare le idee tossiche sostituirle con idee sane e sviluppare quindi comportamenti non procrastinatori. A questo punto però aggiungiamo un secondo dettaglio perché abbiamo detto che se vai semplicemente da uno a parlarci cioè chiedere la consulenza con me non funzionerebbe. Però ammettiamo che tu dici ma se io volessi curare la mia procrastinazione andando da uno psicologo a fare seduto specialista quindi dico non voglio fare il corso perché un corso oh mio dio 48 lezioni 8 ore di corso e devo studiarlo stando attento quindi devo anche prendere appunti per essere sicuro di capire e poi magari ripassarlo e quindi avere accesso altre volte per essere sicuro di aver capito veramente no troppa roba. Potrei andare dallo psicologo magari in due o tre sessioni mi ha curato signori non funziona così. Ora se voi vi accorgete dopo aver verificato e aver tentato di solare la procrastinazione che non ce la fate da soli lì è esattamente dove si inserisce il lavoro dello psicoterapeuta e a quel punto voi dovete andarci ma il primo passo quello della maggior parte delle persone perché vi ricordo l'abbiamo parlato nel video mi sembra di ieri dall'80 al 95 per cento degli studenti soffri di procrastinazione che non vuol dire che dall'80 al 95 per cento degli studenti deve essere inseriti in un percorso di 6-12 mesi con un psicoterapeuta almeno una volta alla settimana signori siamo chiari non sono tutti quanti tra virguette quasi da internare sono persone normali con dei problemi normali che tante volte possono affrontare semplicemente spiegandogli quali sono e studiandoseli ok? poi ci torniamo dopo su questa cosa perché è vitale nell'ambito per esempio nel caso della psicologia visto che stiamo parlando di terapeuti nell'ambito della psicologia cognitivo comportamentale dell'approccio alla stessa di Albert Ellis che non per niente ha pubblicato valanghe di manuali di autoaiuto che servono apposta a evitare lo psicoterapeuta almeno che non sei veramente in quei casi in cui ne hai bisogno ora visto che Albert Ellis è una delle figure più importanti della psicologia di sempre e ricordate che una certa classificazione dei psicologi venne messo dagli psicologi più significativi del novecento venne messo come importanza come più importante di Sigmund Freud quindi fate un po' voi io magari un pochino mi fiderei di una persona che pensa che il primo passo è autoaiutarsi e capire da soli non per niente scriveva e pubblicava saggistica che serviva anche a De Vitello psicoterapeuta perché non erano manuali per psicoterapeuti erano manuali divulgativi per persone comuni per risolvere i loro problemi cioè quei problemi facili semplici leggeri non quei problemi drammatici che era un intervento di un professionista ok e la maggior parte dei procrastinatori non è in una situazione gravissima dove la sua vita va a rotoli dove procrastinano talmente tanto che procrastinano anche di lavarsi o di mangiare e quindi vivono in una condizione di danno gravissimo di sporcizia di malattia perché non riescono a fare praticamente nulla lì probabilmente ha bisogno di un terapeuta e magari c'è anche un caso abbastanza grosso di depressione ok non roba da manualetti o da corsi signori è per quanto ben fatti ok ma visto che voi dubito che siate in casi talmente gravi che letteralmente voi ragionate di settimana in settimana se avete bisogno di farvi chiudere in un centro o in una clinica psichiatrica almeno che voi non siate in questi casi probabilmente vi basta e anzi avete bisogno di accedere a un percorso o a dei libri che vi aiutino in queste cose e noi vi abbiamo creato un percorso che ottimizza le conoscenze di queste cose tramite un approccio di filosofia del pensiero e scientifico in modo che la cosa sia più chiara e più efficace rispetto magari a certi approcci molto vecchi che venivano dal mondo della pura psicologia e non da quello della filosofia del pensiero e delle scienze perché naturalmente quando togli l'elemento scientifico i limiti appaiono ed è normale così in più noi siamo in una società dove la scienza e la prova scientifica danno un valore ulteriore che è facile e ti convincono maggiormente ad applicare le cose quindi c'è un ulteriore vantaggio è più vero è più praticamente dimostratamente vero ed è anche più facile che tu lo digerisca rispetto a un approccio puramente psicologico non scientifico ma torniamo alla questione di chi dice ma allora potrei fare delle sedute specialistiche dallo psicoterapeuta ok ragioniamoci la questione ed è quella ad esempio che avviene in ambito cognitivo comportamentale che il paziente per essere curato deve acquisire le stesse conoscenze dello psicoterapeuta nel suo caso specifico questo lo spiega benissimo Albert Ellis in manuali come che rabbia e che ansia tant'è che quei manuali esistono perché per imparare ok per imparare e guarire il paziente deve prima capire ok quindi in realtà tutto il corso di pensione razionale mirato di progressazione K2.0 in versione non scientifica non basata quindi su certe anali di certe prove delle neuroscienze eccetera ma in versione più diciamo psicologica che non vuol dire falsa cioè vi conoscenzi nel senso che non è basata su tutti i scientifici citati è più psicologia così come imparate in quel contesto vi verrà fornita dallo psicologo quindi voi pensavate di saltare il corso no semplicemente farete lo stesso tipo di corso ma in versione più inefficiente in versione più banalizzata per il semplice fatto che non vi può fare una cosa generale con le citazioni puntuali vi darà qualche foglio di spiegazioni aggiuntive vi spiega le cose nei primi 3, 4, 5 incontri insomma avverrà una roba dove alla fine invece che avere un corso completo a cui potete tornare con le lezioni scritte in cui potete prendere appunti di sentire pezzi ci avete delle chiacchiere libere di cui vi dimenticherete 15 minuti dopo alla fine della sessione invece di avere comodamente video lezioni mp3 testi scritti ok già lì è un disastro perché vuol dire che voi capirete pochissimo e in base a quel pochissimo in realtà andrà fatta tutta quanta la terapia in questo caso ok in più la questione è anche il tempo perché uno dice vabbè però se quel corso dura 8 ore più magari qualche recupero mi riguardo gli appunti ci rifletto magari prima di aver di poter cominciare seriamente ad applicare per superare la procrastinazione impiego magari 12 ore in realtà no perché in realtà ancora prima di averlo finito tu individuerai il tuo tipo di procrastinazione e cominciai già a fare esercizi di pensiero e pratici ok quindi in realtà non è che funziona così però vabbè facciamo finta che una persona voglia essere sicura voglia farsi un bel ripassone dopo il primo giro guardandosi gli appunti tornando sulle cose che gli sembrano più in linea col proprio problema e rifacendo quelle lezioni specifiche e poi soltanto a quel punto cominciai a applicare mettiamo se in 12 ore signori per avere quel livello di competenze e il livello di cominciare ad applicare le cose quello psicoterapeuta che dovrà imboccarti perché non è davanti un corso di filosofia del pensiero con le prove scientifiche e le lezioni ma avrai questi incontri sui seduti settimanali magari sta persona dovrà farti un ciclo di facciamo un ciclo relativamente breve un protocollo che non duri troppo non stiamo parlando dei psicologi come si fa qui al nord qui al nord signori c'è gente che va dallo psicoterapeuta per 2, 3, 4, 5 anni una follia facciamo un protocollo che non sia né cortissimo tre mesetti né una cosa di due anni che non si può vedere facciamo finta che sto psicoterapeuta uno bravo ma uno bravo che capisce che fa le cose e riesce a farti tutto e a seguirti a farti migliorare grandemente in 6 mesi con incontri settimanali ok 6 per 4 24 giusto? facciamo 24 sedute magari abbiamo saltato una festività non lo so 24 sedute da un'ora l'una e facciamo quello psicologo normale di quelli che ti fanno pagare 75 euro perché sotto i 77 virgola non mi ricordo qualcosa euro e non serve la marca da bollo motivo per cui i terapeutici va a tutti pagare 70-75 euro signori ok? quindi già verrebbe che tu in questo caso non stai pagando 497 euro di corso con un corso che ti rimane e che puoi rifare e ripetere per essere sicuro di aver capito ok? e che ti richiederebbe 8-12 ore ma stai facendo 24 sedute da un'ora l'una quindi 24 ore non 12 il doppio e non stai pagando 497 euro per qualcosa che poi ti istruisce davvero ma almeno 1800 euro ok? che casa mia 1800 è parecchio di più di 497 ok? in più c'è un altro problema il tempo sprecato perché adesso gli incontri sono da un'ora ma tu ci devi arrivare e tornare indietro dallo psicologo teniamo conto che sia abbastanza vicino alla casa tua facciamo che sono non lo so 20 minuti di macchina un quarto d'ora 20 minuti più ci impieghi 10-15 minuti per cambiarti vestiti soprattutto i tempi morti da quando stai lavorando a quando esci calcolate non è che sono due minuti eh signori tempi morti in cui non sei perfettamente attivo al centro del lavoro perfettamente performante ma sei già con la testa e cominci a cambiarti a fare le cose a sistemare a preparare per andare eccetera eccetera poi vai quindi metti a mezz'oretta ad andare tutto incluso quindi fino a un certo momento stai perfettamente lavorando poi vai o facendo i tuoi hobby quello che vuoi e poi vai mezz'ora un'ora d'incontro e un'altra mezz'ora per tornare e essere di nuovo pienamente produttivo che siano hobby che siano lavoro che siano quello che vuoi improvvisamente ste 24 sedute non so 24 ore ma so 48 ore non 12 ore non 8 ore 48 ore e non 12 ore 8 ore che te puoi mettere tutte assieme nell'arco di una settimana e tu dopo una settimana sei pronto e parti a fare tutto il necessario 48 ore complessive in 6 mesi dove i risultati stanno arrivando se stanno arrivando perché il problema è che avendo una teoria incompleta e che non puoi ripassare sarei molto confuso costantemente e verrai continuamente corretto infatti tantissime persone non migliorano con la psicoterapia e non migliorano alcune volte si dice che non sono pronti al cambiamento in realtà bisogna ragionare che forse l'ottica è più quella che dice Albert Ellis non è che non sono pronti al cambiamento che gli manca la formazione per capire e quindi in realtà se loro avessero la teoria più completa e fossero più educati cioè se studiassero meglio ce la farebbero mentre invece non studiando fanno un po' le cose per fede ma facendole per fede un po' non le fanno quindi mancate di esercizi che non siete convinti come se avesse studiato veramente e nell'insieme passano sei mesi e procrastinato uguale a prima o magari avete imparato a non procrastinare in quel periodo finché vi seguiva il terapeuta poi voi dite ok la situazione è migliorata provo a cavarmela da solo anche perché volete risparmiare altri 1800 euro e il terapeuta dice va bene però magari ci vediamo tra un paio di mesi per sicurezza e voi in quel paio di mesi ricadete completamente senza avere lui che con la sua presenza settimanale vi obbligava modello ne abbiamo parlato nel video di ieri modello arrivano gli esami la gente si mette a studiare all'ultimo la sua presenza vi obbligava un po' a fare le cose sparisce lui la vostra vita torna a rotoli quindi o diventa che vivete con l'abbonamento fisso 75 euro a settimana altrimenti non funzionate per andare ogni settimana allo psicologo quindi perdete ogni settimana due ore in cui potreste scrivere e perdete 75 euro oppure secondo me è meglio se vi correggete le cose e fate come diceva il buon Albertelli e se imparate voi a risolvere i vostri problemi e soltanto se dimostrate e non farcela da soli scomodate lo psicoterapeuta psicoterapeutiche secondo me dovrebbero farsi pagare almeno il doppio di così perché la gente dovrebbe anche rispettare il loro lavoro e il loro lavoro deve intervenire quando la gente non si impegna e ha bisogno ok o non si impegna nel senso non si impegna perché va troppo oltre quello che si può fare con un manuale di autoaiuto modelli quelli di Albert Ellis quindi uno dei più grandi psicologi del novecento certe volte sarebbe l'intervento del terapeuta ma a quel punto i terapeuti li pagerei molto di più però questo è un discorso mio perché a un certo rispetto dei terapeuti vorrei un mondo della psicologia più basata su un allenamento e una divulgazione di massa tanto questa idea è uguale ho visto e ce l'hanno tanti psicologi che conosco che dicono che tanto del loro lavoro non servirebbe e quindi loro potrebbero puntare a farsi pagare di più avendo meno clienti ma che avevano veramente bisogno se si curasse la salute mentale delle persone per esempio mi diceva un mio amico che ha una bella carriera da psicologo mi diceva se nella scuola dell'obbligo si insegnassero ed è possibile farlo e richiede veramente poco tempo tipo educazione civica si insegnassero i principi cognitivo-comportamentali che insegna Alberto Ellis noi potremmo avere un miglioramento drammatico della salute mentale delle persone e della loro autonomia nel vivere più felici però non lo si fa e quindi a questo punto c'è lavoro per valanghe di psicologi che devono mettersi a interfacciarsi a basso costo perché la gente è disposta a spendere poco con persone che in realtà non avranno beneficio quindi stanno perdendo soldi e tempo senza poi guarire mentre invece se avesse una base di competenze si risolverebbero i problemi da soli quelli che veramente non ce la fanno andrebbero dallo psicologo gli psicologi potrebbero chiedere molti più soldi perché andrebbero su persone più motivate più in target e tutto quanto e succederebbe una serie di cose positive però adesso lasciamo stare questo discorso la questione che riguarda te è che in pratica starai impiegando una valanga di tempo in più una valanga di mesi probabilmente per nessun risultato che non è una cosa bella perché il percorso è troppo poco ottimizzato come direbbe Alberto Ellis per permetterti il corretto miglioramento perché tu non stai accedendo alla teoria stai accedendo a una sintesi che sto buon uomo di psicologo da qui si è andato sta cercando di farti nel disperato tentativo di insegnarti cose che dovresti studiare e che non si possono imparare semplicemente con uno che ti chiacchiera accanto ok? poi tante volte magari ti dà delle slide ti dà delle integrazioni ma signori siamo chiari quante persone studiano sul serio quei documenti che dà lo psicologo tanta gente fa una lettura veloce e poi dice sì sì ma tanti vado apposta a fare le sedute e la seduta con lo psicologo altra cosa che mi dissero diversi miei amici che sono del settore mi dissero la gente non migliora proprio perché fa le sedute perché la seduta viene vista come l'attività per migliorare ma la seduta è soltanto un momento confermativo mentre l'attività per migliorare avviene nella vita di tutti i giorni quindi quelle persone delegono alla seduca al proprio miglioramento come se la sua responsabilità di guarirli magicamente fosse dello psicologo e non loro esattamente l'opposto del prendersi la responsabilità analizzare la propria vita e agire direttamente che insegna Albert Ellis ma smettiamo di dire quanto è bella quanto è figo Albert Ellis perché comunque è morto e quindi non posso sedurlo e sposarlo quindi signori lasciamo queste cose un attimo e quindi tornando in quest'ottica cosa c'è di meglio per studiare e diventare autonomi e competenti videocorsi quindi io vi dico signori se voi avete fretta se non volete cercare la soluzione facile no modello regolette ma volete arrivare ai principi per analizzare veramente il vostro caso e capire che cosa fare io vi dico prendetevi procrastinazione K2.0 non è psicologia va bene ma è un corso di filosofia del pensiero che attraverso un approccio di filosofia e di neuroscienze arriva a fare in modo ovviamente diverso ma arriva a fare le stesse cose che con un approccio differente farebbe la psicologia poi ovviamente se a voi non basta e vi dico che al 99% vi basterà ma se proprio non vi basta avrete comunque delle basi molto solide che potete facilmente tradurre nelle spiegazioni dello psicologo e in questo modo se voi poi deciderete di andare da uno psicoterapeuta per affrontare la procrastinazione invece magari di un protocollo di sei mesi visto che avete delle basi solidissime e quando lui vi dirà le prime cose voi le collegherete alle cose di logica filosofia e neuroscienze sentite e quindi vedrete che quella cosa della psicologia ha un corrispettivo nelle altre scienze ok e a questo punto voi starete talmente avanti proprio come vorrebbe Albert Ellis talmente avanti da poter affrontare la terapia molto più rapidamente e magari voi dopo due mesi di terapia siete a posto invece che dopo sei mesi che pensavate di star migliorando e siete nella merda uguale ma vi servono queste basi ed è per questo che viene procrastinazione K.O. con pensiero razzoale mirato e avete la possibilità di avere da solo un mega offerta a 497 euro ma dovete approfittarne entro il 14 aprile e entro il domenica 14 aprile alla scadenza della mezzanotte quando scatta lunedì le offerte chiudono e procrastinazione K.O. se ne va via per un po' di mesi signori se ne va via non c'è a giugno ok quando faremo il sesto anniversario di miei percorsi non ci sarà chiaro signori perfetto e poi arriva l'estate dove tipicamente non avvengono lanci quindi che cosa succede che arriva l'autunno ma io in autunno non penso di fornirvelo perché probabilmente ragioneremo di fare la riapertura annuale del percorso editoria quindi vuol dire che voi magari se adesso non prendete procrastinazione K.O. 2.0 perché procrastinate e anche qui procrastinate l'acquisto di un percorso permette di procrastinare non è esattamente la prova approvata che adesso anche solo per fede di quello che vi sto dicendo dovete comprarlo e basta applicarlo comunque dicevo se adesso non lo prendete può essere che voi vi troviate che la prossima volta che lo propongo potrebbe essere marzo prossimo tra 11 mesi tra 11 mesi può essere la prossima volta lo propongo e facilmente sarà così ok perfetto quindi signori io fare pochio i cazzari che rimandano perché a furia di rimandare gli anni passano il vostro romanzo non viene scritto e ciao ok perfetto in più uno potrebbe dirmi io magari non procrastino il mio problema è invece soltanto di strumenti tecnici quindi sì io non sto scrivendo ma non è che non scrivo perché procrastino non scrivo perché so che se mi metto a scrivere prima di sapere come si fa rischio di fare errori rischio di fare errori che poi io tendo a irrigidire credendo che siano veri insomma rischio varie cose che hai spiegato in altre lezioni in altri video eccetera eccetera va bene perfetto allora mettiamo che non ti serve la pochissazione K2.0 doppio corso avanzato puoi avere quello ovviamente con metodo trave risveglio dello scrittore guardate la tabina riassuntiva come vedete metodo trave che vi insegna come studiare dai libri ben scritti ma anche come studiare da quelli scritti male vi insegna proprio l'approccio della lettura come modo di studiare una lettura che è meglio un esercizio di scrittura tramite la lettura in pratica è praticamente meglio della scrittura nella scrittura puoi solo esprimere ciò che sai ma nella lettura consapevole di metodo trave tu acquisisci la capacità di scrivere ok che poi dovrai dimostrare provandola ok tutto spiegato dentro signori risveglio dello scrittore insomma una bomba di roba questi contenuti sono tutti disponibili fin dall'offerta di 497 euro sono tutti disponibili fin dall'offerta da 497 euro o due rate mensili da 249 di procrastinazione ko e sono anche ovviamente disponibili in offerta in doppio corso questi due corsi omaggio che vi spiegano come studiare vi fanno discorso sulle passioni vi spiegano i miti i miti le stronzate raccontate in campo editoriale o che potrebbero bloccarvi signori io ho conosciuto tanta gente che era bloccata non perché soffriva di procrastinazione ma perché c'erano dei falsi miti delle leggende editoriali che gli dicevano non puoi fare questo non puoi fare quello funziona così funziona cosà e loro credendoci dicevano eh ma io voglio fare questo eh ma non c'è speranza da allora eh vabbè che senso ha poi hanno scoperto che era falso e sono partiti a scrivere ma scrive davvero mentre prima scrivacchiavano signori eh quindi magari sarà proprio il risveglio dello scrittore con questi contenuti dove si dice la vera verità le vere verità scomode non le false verità scomode dette per appioppare delle stupidaggini o per convincere di cazzate le persone quelle vere ok la verità dimostrabile e con esercizi mirati che voi potete fare per dimostrare che quello che vi sto dicendo è vero quindi che non mi dovete credere per fede ok in questo caso credetevi per fede che non dovete procrastinare ma su questo caso sarà tutto razionale e tutto verificabile signori ok perfetto oppure uno può dirmi guarda invece c'ho tutto io so che sono bloccato da motivi tecnici di scrittura perché non so come fare ma so anche che se parto perché ho avuto esperienze con l'università ho avuto esperienze con gli hobby ho avuto altre esperienze so che procrastinerei ho un po' quella tendenza a farlo allora va bene vi diamo tutto quanto assieme e vi aggiungo anche altri percorsi strategia antiblocco 2.0 esperienze antiblocco scelte consapevoli non ve li sto a spiegare di nuovo qui signori perché ve ne ho già parlato abbondantemente in video precedenti e soprattutto perché sotto questo video c'è il link che va alla pagina di vendita io vi dico non procrastinate la lettura della pagina di vendita non è intelligente signori se voi adesso volete procrastinare la lettura della pagina di vendita per sapere i dettagli di queste cose che sapete che se ne conoscesse i dettagli capireste di averne bisogno è proprio la prova che non dovete procrastinare perché se la procrastinate vuol dire che siete il procrastinatore ma se siete il procrastinatore dovete evitare di farlo quindi proprio se vi viene in mente adesso di non andare alla pagina di vendita sapete che avete un bisogno disperato se siete in buona fede nel voler scrivere poi se siete di cialtono al tuo discorso di andare subito a guardare e se non andate e non state scrivendo un romanzo all'anno una cosa assolutamente fattibile probabilmente riguardo alla scrittura siete semplicemente dei cialtroni che se la raccontano quindi signori io le offerte ve le ho date il tempo ce l'avete sono pochi giorni disponibili ancora fate quello che vi pare e buono studio grazie a tutti grazie a tutti